Quanti bot ci sono qui Marro? Ma se in giro sei... Ah no no ok Eh ci sono tipo 6-7 6 pochi comunque Stai dicendo se in giro senza? No pensavo che se in giro senza chestplate Invece schinata come la felpa Brutta? Comunque son pochi eh Leo Ma sto mirino di merda mi fa cagare Allora, mi prende 89 Allora Non si vede nulla bro Non si vede niente zio Sto sparando in mezzo alla cieca Ove li metto i razzi? Dietro scusami Dietro dietro sì Con tipo dei pistoni Muoviti normale nella mappa Leo Tipo puoi Muoverti come nella mappa diciamo Quando ti muovi normalmente Posso procedere bro con il bombardamento? Aspetta un secondo Sono pronto a bombardare? Piazzando i letti Dove devo cliccare zio per spararli? Eh a sinistra vedi tipo fire Ready? Eh sì tipo a sinistra Vado bro No no ready Esci da sta schermata E poi è più guarda a sinistra Ok Più meno così va boss Infatti me la voglio gustare Vado? Vai Minchia bro Secondo me di l'arte Gli è la detona giuro Sono partiti Guarda che arrivano Minchia bro Secondo me di l'arte Gli è la detona giuro Guarda guarda che arrivano Adesso mi li vedo cadere in testa Minchia bro Stanno arrivando Stanno arrivando Li vedo li vedo Guarda la base però Non la stai guardando Eh sono andati un po' No abbozi Hai buttato giù un botte Stanno andati giù bene Guarda Sì 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 Ma le ha buttato giù tutto Guarda Sì 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 Vai vieni 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 Veloce Arriva Aspetta vado a prendere i c4 Vado a prendere i c4 Pro tre c4 siete dentro eh Qua tre c4 siete dentro Minchia questo sapon subito Antenne tirate in su Guarda Sai brother Che qua arrivano gli sciacalli sicuro eh Eh un attimo Spesano da prendere le ammo Veniamo anche quel colpo di R normale va Minchia brother Gli ha spaccato un bel po' di roba eh Non so che struttura C'è un silenziatore Vabbè Ho pigliato uno Vai 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 Cosa facciamo Mario Bucchiamo dritti per dritti qui Magari stai a vedere che sopra c'è tutto aperto zio Comunque sì Leo da dietro Però ci sono i Riesci così mi sa Da sopra se no zio Guarda un attimo i pavimenti del tetto sopra 360 Devi sbucare la ladder Nel caso però Guarda quel buco lì invece che ha fatto sul tetto Del triangolo Eh mi ha detto che l'ho vissato un silenziatore Vabbè sti cazzi Eh e da qua sarebbe perfetto Da lì da lì da lì da lì Qua dentro è finita giuro Eh però vorrei dire che la lì da lì da lì da lì Perché è il core della 2x2 Il dente della 2x2 Quindi rompiamo da lì da lì Eh zio no ti metti una scala Vai giù butti 4c4 E risali con la scala velocemente Ti prova C'era il tempo C'era il tempo C'era il tempo Rompo qui? Questo muro in ferro? Eh scusate che Sì esatto quello lì Vabbè 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 sti cazzo o no 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 Ma da sotto riesci bro fidati No bro stai murendo il muro sopra Ma cosa dovevo fare brother? Non questo Hai buttato il muro sopra mi sa eh Che cazzo ne so brother Vabbè vedi come va adesso Devo bucare quello sotto, quello del TC Mi è caduto un cazzo, zio Eh, manca qualche colpo esplosivo Dammi cosa con i colpi esplosivi No, vieni, vieni, prima che cade nel buco Tieni Il semi? Sono stato, no Fa silenziatore Ok Questo gli rompo, bro, aspetta Dammi un'altra scala Mi hanno sparato, bro C'è qualcuno che viene a rompere i coglioni Da sotto, cistina Ma sono morto, zio, da una nade Anche io, bro Minchia, chi è? 2x2 Rompi i coglioni, sempre lui Minchia, bro, veramente Ma bene, ovunque andiamo noi, brother Questo qua è un incubo Fisso, brother Qualunque cosa facciamo, c'è lui È sempre attaccato, questo, bro Ma com'è possibile, zio? Ma c'è roba C4 Dovunque andiamo Ci ha preso tutto, già, zio Avrà già bello che ha preso tutto Sto magnere del cazzo Vabbè, brother Abbiamo fatto in tempo a tirare due robe Era già lì, letteralmente, zio Cioè, due secondi già che arrivavano granate Cioè, aveva tirato 4C4 Puoi sapere dove abita, Leo? In G12 In G12 Abita lui Sto facendo notte Non ho neanche le luci Tu sei sopra la base sua Scappato, bro Questo è arrivato, zio Aveva le nade in mano Cioè, capito? Tu ma tu giri con le nade solitamente Ma dimmi tu, cioè Questa è arrivata Aveva già le nade in mano Volere dare la roba, zio Dai, finitelo, dai Dai, dai Finiamolo, zio Prendiamo la roba e via Dai, andiamo Ma infatti, dice Non ci fa nulla, bro Zio Non ha full bancato in un secondo Letteralmente Eh, non ci fa nulla, brother Non ha letteralmente full bancato in un nanosecondo? Hai però su C4, zio Minchia, ma non gli sto facendo danno, zio Sì, sì Fai, fai Non gli facciamo niente, zio Letteralmente Non so che vuol dire nulla Come distruggere il doppio, tipo No, 30, dai Era 112 Minchia, 3C4 Zio, le abbiamo tirato Dammi un altro Uno dovresti farcela, in teoria Eh, ma entriamo in una stanza di merda, mo Conta che va a 110 di vita Un C4 fa a 250, mi stanno dicendo Due Ma ti rendi conto, bro Dammi colpi esplosivi Dammi colpi esplosivi Sì, devi tirare una trentina, secondo me, di colpi, eh Buona Qua ci abbiamo Ma vedo cazzo Vuote, bro Minchia, c'è una shotgun trap, bro Sono dentro No, brother Sono due, zio Sono due Sono messi di paio in croce Aspetta un po' Sei morto Sì, sì, aspetta Mo' torno, aspetta Non avevo vista l'altra Come facciamo a romperle, quelle lì? Eh, boh Ci faceva ammazzare tante di quelle volte che finiranno i colpi Mi suicido Mi spari, muore Cioè, si distrugge, bro Ti metti un botto a risponare Sai, c'è solo un 90% di protection Non riesci in qualche modo a scaricarle, eh? Tipo Ma tua madre Zio Ez Minchia, bro Mo ci ho letto in base L'ultimo che Le trappole Sono qui dove ci sono le casse, le trappole, eh? No In realtà devi farla più bassa, bro Ce n'è una qui, sì, aspetta Ti ha fatto ieri questa scatola? Eh, devo provare a fare il martello No, non il martello Devi avere tipo, non so Un'accetta, diciamo E la spacchi Cosa? Sì, sì, sì Non la puoi tirare su, bro Non è a casa tua Non è il TC C'è una trappola di merda qui, bro Rompimi questa cazzo di triangolo Dai, mettilo sotto Non serve qui Rompili le casse con colpi esplosivi Prova a romperne una Dai Broder, è surreale che sta roba Non si rompe, broder È indistruttibile quella cassa di merda Perché non ho più colpi esplosivi ora Eh, puoi fare anche colpi normali Come fanno ad andare giù, zio? Quanto ha di vita con la cassa? No, bro Ma è piena di vita, zio Lascia perdere Ha 240 ancora Ok, sto recuperando il mio corpo Aspetta, bro Troppo la roba qui sotto, ok? Recuperamela tu, poi Ok? Sotto dove? Qua sotto, qua sotto Lasciali Minchia, bro È impossibile, giuro È impossibile passare Non si ri... No, brother Non si può Non si può, brother Minchia, tira un C4 su quella torretta di merda, dai Eh, questo non costruisce, brother Il building plan più... Ah, sì, aspetta Il building plan Nove ne abbiamo ancora, mi sa Ok Cioè, se salti lì ti incura lei Se vai giù ti incura l'altra Non c'è una via d'uscita, cioè Eh, non sarebbero da rompere i letti No, no, brother Parca troia Puttana bastarda, zio Non si riesce, giuro È l'altra merda sotto Però è ancora piena Brother Una è scaricata, raga Una è vuota Sei passato, bro? Sto facendo scaricare, aspetta Oh, bravo Scarica, bravo Scarica Bravo, Darion Zio, guarda quanta pietra Ne ha? No Oh, mica, ma abbiamo i motopicchi Vabbè che, zio, c'è un building protection infinito Che patodos, bro Allora Ah, questi bei motopicchi non li prendo? E ma come il popolo si chiama, Marro? Andiamo dritti? Eh, non lo so che cosa c'è a fianco, scusami Guarda, ci sono casse qua sotto Che hanno anna, tool Croccia, vabbè, pietra No, il problema è come arrivare al TC ora, zio Quanti C4 avete? Nove, bro Nove Ok, no, per finire il ride normalmente lo finireste Minchia, bro, c'è questa porta di merda Dovevi sfondare quella merda, Leo Questa porta qua, no? No, 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 devi sfondare la Reserci a fianco Aspetta che arrivo Così, ma è andata giù in un attimo, perché? Eh, magari era danneggiata No, bro, ce va dando bassissimo Casse qui Vuoto Vuoto, zio Tutto vuoto qui, eh, dai, per ora Venga, c'è tutto al TC, zio, sicuro Broder, è solo merda, eh, te lo dico per ora Eh, quella qua dovresti sfondare, Leo Ma c'è elettricità, broder Stacchiamoli tutto Zio, lo tornerete con i livan? Eh, sì, quelle non servono Utile quello che stiamo facendo io e Leo Però smettiamo di Riprendici 4 Aspetta, aspetta, aspetta Che qui siamo deep, bro Minchia, zio, giuro Letteralmente Stiamo, minchia, facendo il nulla Ma gli altri motopicchi Li avevamo già rotti tutti No, io e lo zio Hanno bancati un po' Bro, qua c'è una bella porta in HQ Secondo me si dovremmo entrare da sopra qui, Marro Eh, sì, da lì sopra Da qui, dal centro Lì sotto c'è Ah, no, il tappeto d'orso Bro, ho detto Minchia, si sta rompendo come il burro Giuro Eh, questa qua comunque Devi sfondare, questo Bro, per un attimo Minchia, ragazzi Stando giù Una velocità incredibile Invece era quella merda d'orso Io sono bloccato, raga 8C4 e lo finisci comunque qua Dai ragazzi, allora Sul picconare Fermo Spostati, minchia A picconare, ragazzi, dai Te la faremo prima o poi Minchia, Marro Mi stai killando, porco zio Cioè Intanto la lampada la sfondiamo Aspetta Vabbè, intanto vandalizziamo Tu non hai zio esplosivi C4? Io col PX Explonio un po' Aspetta che mi ha risposto Alex Lo sta togliendo Lo sta togliendo? Sì, 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 sì Allora Eh vabbè, allora ce la fai Basta Basta andare di Sì, dico E' il posto un minuto fa Appena lo togli, minchia Non li buttiamo subito Questi C4 qui Eh? Sì, mi faccio ridare I C4, minchia Plus utilizzati Perché era protetta, bro Tanto zio per il meme Vai, cioè No, più caldo Che erano 7 C4 Che usavi meglio Vandalizzate intanto, ragazzi Vandalizzate Eh sì, sto vandalizzando Non lo dà più, zio Non c'è più building protection È vero, è vero Non c'è più Sì, l'ha tolto L'ha tolto Dammi C4, zio C4 qua, belli secchi Qua, zio, diretto Qua, qua, qua Portami anche delle siringhe Alex ci deve ridare Anche 7 C4, eh Perché Fermi, fermi 8, 8, vai Leo Tu ti dà un colpo Muoio, zio Fermo, testa di cazzo Muoio Se domani Se domani Cherezza rilogga E non lo aveva quittato Raga, e scopri che Eh? Vai, vai, vai Tira, tira Stiamo in, brother Uè, guarda qua Madre, quanto zolto Gio, ma questi tech trash Dove cazzo Siete tirati fuori, brother Tutti questi? Guarda quanti Mons Ma? Mons? Eh, sfondegli sto TC, dai Dai, devi tirare un C4 prime Sulle casse, via Vai, non c'è più TC, vai Abbiamo tutte le robie in HQ, zio Stivali Zio, ma aspetta Rompiamo tutto intanto, vai Io vado già a bancare intanto Non ti preoccupare Zio, guarda quante armi golose qui Quanti belli a K Io vedo 2 med 2 med Con i loro vestiti Fammi un favore, Marro Eh, dimmi, dimmi Vieni a rompere questa cazzo di roba della corrente Ma cosa faccio? Gli continua a sfondare Oppure dite che ormai Ma il TC, bro, l'hai già rotto? Sì, sì, sì 300 scrap Vai Sono io che sto rompendo una cazzo di merda Zio, spostati, bro Vai, sparagli Vai, spara, spara colpi esplosivi, zio Ok Perché gli sparò mica con la K e colpi esplosivi Tanto Te ne frea qualcosa, eh Vai, vai, sparate, sparate Eh, zio, questa era dove eravamo prima Non abbiamo aperto una porta che ci ha portato dove eravamo già prima, bro Dove non c'è niente Il loot goloso è questo, zio, dai Non c'è tanto da... No, no, basta, basterà questo Minca, zio Poco? Cioè Ma dalla cazzo di components, Leo Vai a bancare, dai, vai a bancare Scusa Di nachher Ave 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 Ave